Quindi andiamo a tutto l'altro lato dell'Italia. Quanti di sotto di Milano? Date la mano. Uno, due, tre, quattro, cinque. Tra voi cinque c'è il vincitore. Complimenti a Cecilia Mariani. Cecilia Mariani. Cecilia Mariani. Prima propria della testa di insieme del settembre di Milano. Cecilia, vieni qui. Prima della testa di rifatto di Milano, ti deve aspettare la domanda di Vito? Per niente. Ecco, dopo chiediamo anche al professore che abbia la scelta di questo primo premio che è rappresentativo, insomma. Però, cosa ti ha dato questa esperienza? Sei la prima volta che vi danola e che partecipi? Sì, è la prima volta che vi danola e è stata un'esperienza bellissima, organizzata davvero perfettamente e sono davvero molto contenta di aver partecipato. E di aver vinto. Porti a casa, un bel riconoscimento, un bel premio, insomma, a che anno sei? E quindi abbiamo altri due anni per vederci. Ovviamente l'anno prossimo voglio presentare. L'anno prossimo è la dici e tessima emozione che è la dici e tessima emozione che è la dici e tessima emozione che è la dici e tessima emozione